Siamo con Kino Rossi Stewart, protagonista di Cosa Sarà. Com'è stato lavorare con Francesco Bruni e raccontare una storia così personale del regista, appunto, la sua malattia? È stato particolarmente facile, questa è una strana cosa che è accaduta. Il film non era facile, il personaggio non era facile in assoluto, perché è un uomo che comunque si trova di fronte a un baratro spaventoso, anche a tratti. Nonostante ciò, Francesco Bruni ha un candore, ha bisogno di condividere, comunicare con tutti quelli che partecipano al film e questo ha reso l'esperienza particolarmente organica, particolarmente fluida, priva di sforzo, priva di fatica. Grazie a tutti.